Colgo anche l'occasione per dirlo pubblicamente perché è venuto qualche amico, qualche tifoso che è andato sempre a cercarlo lì più avanti e non l'ha trovato, per cui mi preme chiarire che è stata fatta l'esumazione così come richiede le normative cimiteriali ed è stato messo nella cappella Leo di famiglia. Quindi chi vuole venire a fare una pieghiera per Adriano può trovarlo qui? Sì, lo trova qui, di solito la cappella è aperta, se no bisogna chiedere al custode, insomma lo dico perché qualcuno è andato in giro per il cimitero e non ha più trovato, non è molto bello trovare. Però è un bel segnale che ci sono ancora tante persone che vengono e vogliono salutarle, omaggiarle. Sì, quello è veramente l'unica cosa che fa piacere, nel senso che ti riempie il cuore. Con noi c'è Maria che non vuole parlare, è una delle tue due figlie. Quanto hanno preso del carattere del papà? Come vedi quella timidezza all'aggia, diciamo che l'altra è un pochino meno timida, però sono timide entrambe, perché forse lo sono anch'io, un po' camuffato. Sì, Sara ha preso dal papà la determinazione, il coraggio ce l'ha. Anche questa qui però è un pochino più timidina, come ha potuto vedere. Però la lascio stare perché piano piano capirà che poi già lo stanno facendo. Vanno sempre da tifosi, vanno le partite. Erano piccole quando gli chiedevo certe cose, non riuscivano bene bene a capire il valore di queste cose qui, il senso. Sul passare del tempo lo stanno capendo e sono anche tifosi appassionate dell'Avellino. Che ti dicono quando torneranno dalle partite? Vanno nello stadio che si chiama Adriano Lombardi. Eh già, e poi mi dice sempre che stanno attente alla radio, che ripetano il nome giusto dello stadio. Dico non ti preoccupa che non si dimenticano, dicono tutti e due, Partenio Lombardi. E allora, diciamo, l'augurio potrebbe essere che torni allo stadio anche tu, insieme alle tue figlie. Ora fa freddo, non so, però facciamo un in bocca al lupo all'Avellino che lunedì sera attesa da questa sfida molto importante col Bari e si potrebbe riavvicinare al primo posto. Speriamo, guarda, perché io dico le mie figlie sono emotive, ma io lo sono ancora di più. Anch'io accendo e spengo la radio, alla fine mi è rimasta questa cosa, mi crea un'ansia pazzisca anche a me. E io lo spero con tutto il cuore, anzi faccio l'in bocca al lupo, è il momento di risalire, speriamo bene e così ci torno anch'io allo stadio.